ciao amici da frank bianconero domani juventus celsi allora partiamo e dicendo che stanno parlando della squadra campione d'europa che si è rinforzata saul kunde luca stiamo parlando di una squadra che ha messo giù altri giocatori sicuramente forti ma non dobbiamo pensare a dobbiamo sempre capire e pensare che la juve quando sono queste partite deve innanzitutto mettere anima corpo cuore fame voglia poi il risultato molte volte conseguenza di episodi e in questo caso dovessimo perdere e perché dal mio punto di vista in questo momento storico negli ultimi due trani il celsi stanno parlando di una categoria superiore a noi abbiamo defezioni perciò chi giocherà chi giocherà al posto di morate di bala deve mostrare carattere deve non far rimpiangere perché io già loro due non li valuto campioni li valuto ottimi giocatori perciò non dobbiamo far impiangere ottimi giocatori voglio far vedere voglio mostrare e voglio dirvi che la juve non è quella che abbiamo visto finora che regala più che altro ci vuole attenzione per 90 minuti ci vuole abbastanza intensità metterci la gamba sui contrasti ci vuole fisicità perché il celsi è una squadra completa il celsi secondo me in questo momento ha raggiunto la crescita del bayern monaco dove all'interno della squadra c'è tutto qualità intensità forza fisica tecnica solisti giocatori veramente forte a loro dovrebbe ma se non sbaglio james ci trovano queste due assenze ma allora non fa differenza loro hanno una grande rosa loro hanno una grandissima rosa una squadra che dovrebbe partire a 5 sempre in difesa però un centrocampo con oggettività ed obiettività che parecchio superiore al nostro e parlo sempre sulla carta perché poi le partite il calcio lo sport più bello del mondo perché non c'è certezza che la più forte batte quella che in quel momento non è alla stessa portata perciò possiamo dire che per il girone può contare meno ma può contare tanto dal punto di vista di autostima dei giocatori perché se te la giochi alla pari con il celsi acquisti autostima perché a noi manca questo a noi manca autostima non sono grossissimi giocatori quelli che abbiamo ma non sono nemmeno così pippe come qualche prestazione stiamo vedendo la juve dovrà scendere in campo con bonucci chiellini danilo alexandro quadrado secondo me gioca bentancur locatelli bernardeschi chiesa king questo è quello che appare nelle prime ore io avrei fatto un tridente avrei avrei giocato a specchio con la difesa 3 mettendo chiesa tra le linee di centrocampo e difesa loro perché a strappi perché al 1 contro 1 a potenza fisica che di saltare l'uomo perché lo ripeto per me chiesa può diventare la famosissima seconda punta il famoso sostituito di dibala il del piero con caratteristiche totalmente diverse ma uno che sprinta è uno che ha nei 40 metri una potenza una resistenza nella velocità impressionante e uno che sa calciare di destra e sinistra arrivati negli ultimi 25 30 metri perciò io stare attento e non vorrei che che questa partita o la formazione non sarà questa non so se giocherà culuseschi anche non credo credo che si affiderà a bernardeschi chiese culuseschi come sostituzione offensiva in caso chi ne poi non ce la fa per avere comunque un cambio offensivo visto che la sfortuna non è delle infortuni e la sfortuna e che poi capitano sempre nello stesso reparto gli infortunati perciò io la conferenza non ho vista perché lavoro chiama e spero soltanto che la juve domani mette metta in campo quello che noi siamo abituati a giocarci la ce la siamo sempre giocata con tutti avevamo forse una rossa qualitativamente superiore a questa sì ma l'atteggiamento a volte può fare la differenza perciò volevo dire un locatelli un po meglio di quello che aveva visto la sampdoria soprattutto nel primo tempo dove tranne un lancio sbagliato parecchi appoggi anche semplici il bentancur della sampdoria dove è anche corretto nel smistare il gioco e prendersi qualche responsabilità sperando che possa arrivare anche al tiro perché dobbiamo approfittare anche di certi spazi di tirare dalla distanza bernardeschi non lo linciamo ha avuto un approccio diverso quest'anno non è il campione non è chissà che ma è un equilibratore uno che comunque ci dà dentro e ci mette l'anima sbaglia decisioni ultimo passaggio tutto quello che volete però dobbiamo anche capire che questo momento di transizione essere abbastanza non dico coperti ma essere e cercare di essere equilibrati può fare tutta la differenza di questo mondo perciò io non voglio vedere solo il risultato finale che conta come sempre io sono favorevole sempre la vittoria ma se non giochiamo alla loro parità meno dal punto di vista intensità e fisico la vedo veramente dura perché noi dobbiamo evitare due cose di fare una pessima prestazione e di prendere per assurdo un risultato non bellissimo perciò tra virgolette chiamiamola imbarcata questo non dobbiamo subirlo perché se dobbiamo risalire risalire tutte le partite sono importanti e vanno prese tutte le cose giuste di una partita e domani dobbiamo fare le cose dico quasi se non perfettamente perfette scusate il gioco di parole perciò io sono sempre fiducioso domani ai ragazzi voglio vedere impegno voglio vedere lucidità voglio vedere zero i regali voglio vedere non fare cose assurde non voglio vedere regali alla squadra avversaria già fortissima di suo perciò ragazzi fino alla fine forza juve remiamo tutti dalla stessa parte nessuna auto nessuna premiamo tutti dalla stessa parte ritorno alla cembre sling è vero che la qualificazione sarà soprattutto con le due partite con lo zenith ma dovessimo avere un risultato domani favorevole favorevolissimo si gonfia il petto e se alla juve si gonfia il petto risgonfiarlo per tutti diventa difficile questo penso io ciao a tutti da fra il bianconero e fino alla fine grazie